Non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa, che ti domina, ma tu non sei pazzo, come la gente dice. La tua fantasia, i tuoi sogni ti hanno preso la mano e governano il tuo agire. So anche che in questo momento probabilmente ogni tanto cerchi di combatterli. Vorremmo che tu credessi che anche noi vogliamo aiutarti a farlo. Lo so che il passato ti ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo. E non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.